buongiorno ragazzi come va tutto bene spero di sì oggi giornata troppo bellina manifestazione una mattinata iper impegnata poi la sera sarò stay tuned però almeno la mattinata di quelle belle fighe ragazzi proprio adoro bene sono ancora puntuale strano ma vero di solito nella mia vita sono sempre in ritardo oggi stranamente sono puntuale vado a prendermi un caffè perché alla mattina dopo la colazione se mi piglio un caffè muoio in terra proprio no mi serve un caffè anche se ho fatto colazione quindi non voglio morire e niente adesso devo mettermi a studiare dove prendermi il pulmon perché devo andare in un posto dove non sono mai andato e quindi ho bisogno di studiarmi la strada vabbè scopriamolo per vivere dai ci vediamo dopo ciao appena arrivata alla manifestazione 50 metri tempo di arrivare dall'altra parte della strada e sono lì dai a dopo ciao ciao no 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 appena rientrata a casa sono stanchissima letteralmente letteralmente stanca infatti i miei capelli sono in una condizione pietosa fanno schifo perché sono tutto il giorno dentro la cuffietta e quindi io appena stai morti adesso con la fascetta e quindi bello fare le manifestazioni bello lottare per chi ne ha bisogno però sono stanca però la stanchezza positiva perché sono contenta di quello che ho fatto quindi sono contenta perché vado a letto felice perché lottare per qualcuno per noi stessi per tutti sempre bello ora me ne vado a riposare nel divano mi guardo un po il cellulare e robe così insomma mi riposo e niente spero che il video vi sia piaciuto vi invito a condividere il video a iscrivervi al canale e lasciare un like se il video è stato di vostro gradimento e niente vi mando un bacione ciao